Secondo te sto male? Vabbè questo non lo scrivo Ma questo non ce lo scrivo Ma non è che piange per dei commenti Penso che io adoro quel figlio Perché abbiamo avuto un rapporto molto particolare Lui era l'ultimo Era l'ultimo Andavano tutti a scuola Già, tutti a scuola anche Marco Quindi eravamo io e lui Ce l'andavamo a Conigliano Dalla mia sorella Gli piaceva tanto Rimanevamo a puntala Loro partivano a settembre Noi andavamo in un albergo E in uno degli alberchi più debole a casa E stavamo lì una settimana Quindi c'era proprio E' come se fosse Il più lupico Il più viziato Sicuramente il più viziato E appunto c'è stato questo legame così Perché c'è stato questo periodo Che lui è rimasto evidentemente Molto più presso E appena E